Domenica contro Cuneo non è andata bene dal punto di vista del risultato, ci si attendeva da più, però adesso c'è la possibilità di rifarsi domenica, c'è il ritorno. È difficile, però ci provate? Sicuramente ci proviamo, anche perché non abbiamo mai vinto fuori casa, almeno un anno di vittoria della stagione fuori casa ci vuole, allora proviamo. La squadra non ha nulla da perdere, andrà anche con meno pressioni rispetto a domenica scorsa? Non so se è nulla da perdere, se abbiamo da perdere la partita o da vincere, per perdere c'è sempre il quinto posto, dobbiamo giocare meglio di loro per vincere, questo è facile così, bisogna trovare qualcosa che sorprendiamo loro, sicuramente dobbiamo battere un po' più meglio la partita scorsa, poi vediamo. Ecco secondo te dove Cuneo è riuscita a prevalere domenica scorsa? Sicuramente la battuta vi ha messo in difficoltà? Sì, sì, per questo è legata a recezione, ma non di questo. Poi loro avevano la palla sempre in tre metri, poi contro qualcuno è difficile, poi fare la loro difesa, loro sono riuscita a fare meglio di noi. Ecco, in ogni caso al di là di come andrà la partita, per Franti Sekogurchak comunque una stagione positiva, giocata su alti livelli, nonostante nella seconda parte gli infortuni ti abbiano condizionato, però sicuramente una buona stagione. Forse buona stagione sì, però siamo sempre primi per ultimi, allora non lo devo dire. Però dal punto di vista personale ti abbiamo sempre visto eccellere in molte partite? Eh, penso che tutti siamo pronti a fare meglio, però non siamo riusciti a farlo. Poi se lo dici tu o se dicono altri va bene, però io non mi giuro di cosa so.